Il sindaco di Ozzegna, Sergio Bartoli, era la guida del suo scooter T-Max quando per causa ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato a terra. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Rivarolo Canavese e i carabinieri della radiomobile di Ivrea. Subito soccorso è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti.